buonasera a tutti i ragazzi e ben ritrovati sul mio canale io sono oscar sin kraken e questo è tennis world tour ci troviamo a quinto in ecuador per la semifinale contro sungao il cinese di uno dei primi tornei a livello amatoriale che serviranno ovviamente anche tutti i tornei a seguire al nostro personaggio per la scalata nel ranking mondiale al momento siamo 90 novesimi e niente affrontiamo sungao che al 96 e vediamo cosa succede intanto guardiamo un po di suggerimenti quando si mira ai lati del campo più un colpo in carico più la sua traiettoria sarà decentrata ok leggermente seguente non vuole compito da fondo campo è meno preciso e potente non vuole profitto nei rettangoli di servizio poi durante il servizio effettuare il colpo quando la palla si trova nel punto più alto della sua traiettoria di lancio massimizza la possibilità di successo è stata la grinta di questi due giochi e la grinta non pensate che anche per un secondo tanto abbiamo già aggiunto un punto di attacco di voler abbiamo anche cambiato un po l'abbigliamento del personale via questo dritto finisce fuori è mancato un po di comincia male questa avventura Oscar sem kraken si così facciamolo correre dai dai che dunque c'è una fatta oh guarda che roba pazzesco è la perfezione fatta qui ecco un po' non beccata ora è un po' ho fatto è un po' è un po' è un po' di che Bello! 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 È la perfezione fatta colpo. Nooo! Colpa mia! Eh sì, colpa mia, colpa mia! Sì! Sì, sì che gli abbiamo mandato la palla andrà! Buono, buono! Sì, così, vantaggio! Pallo! Pallo! Sì, lungolinea! Bellissimo lungolinea, ragazzi! Vediamolo! Bello! 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 Proprio! 1-0 intanto! La battuta ciao! O gao! Uh! Ma dove hai imparato a sentire così? 1-0, go! Eh sì! Seconda del servizio regalo! Eh qua non ci arrivi! Qua non ci arrivi! Unici pari! Sì! si, si cos'è trovo che si è migliorato senza fare non va bene ooo no 40-30 no uno pari ragazzi uno pari uno pari si povera palla 15 love si 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 il 30 a 0 si il 30 a 0 no 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 non si farlo e mancato un po' di controllo no no questo dritto finisce fuori è mancato un po' di controllo no no Grazie a tutti. Sì, sì, bonti, sei il numero di quelli. Buono, buono. Uuuuh! Da che pianeta arriva questo giocatore? Due a uno. Uuuuh! 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 Folt! Che potenza! 9, 30. Folt! Folt! 9, 40. Buono, buono, buono. 20, 40. Sì, non gli sfugge l'occasione. Due a una, due a una, due a una, due a una. Nessuna esitazione. Second set! Due a una, due a una. Un'altra, 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 due a una. Caspita, che cannonato! Ma come fa a coppire che c'è fuori? E' quasi sovrumato. Questo dritto finisce fuori, è mancato un po' di controllo. Che potenza! Wow, incredibile! Avete visto passare la palla? Era un missile! Stiamo giocando veramente in modo molto aggressivo, fallo! Siamo così aggressivi, Gao soffre, soffre! Soffre, dobbiamo andare sotto rete, così, così, Gao soffre! I suoi non sono patti, sono granate! Sì, sì, le granate! Trovo che si è migliorato il servizio! Bravo! 15, 30! Bravo! Che sfoglio di bravura la vattura! 30, 4! Fallo! Sì, ragazzi, ragazzi! Dai, ragazzi, dai! Un'ultima tumore di debolezza, dai che ce la possiamo fare! Vai, cavolo, lunga! Sotto adesso, sotto! Fallo! Sì, doppio errore! Dus ancora con Gao! 3-1-1-0, dai! Sì, fallo ancora! Fanno un altro, ci fai un favore! Dai, cazzo! Niente, stavolta il China non ha voluto sbagliare! Sì, non ha fatto! Vuola in... Flessione sul gomito, proprio! Vantaggio! Eh dai, cavolo! 2-0, ragazzi! 2-0, 2-0! Sì, 15-0, dai! Dai, chiudiamo questo set con un 3-0 secco! Dai, ragazzi, dai! Dai, ragazzi! Dai, ragazzi! 3-0! Diavolo, porco! Sì, bella lì! Sì, buona lì! Ai, 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 hai preso il tuo gioco! Magnifico! È il colpo perfetto! Bravo! Bravo, Gao! Gao! Sì, sbagliato! Bravo, Gao! Gao! Sì, buona! Sì, lungo lì! Sì, 30! Sì, 40-15! Dai, Kraken! Dai, Kraken! Sì, fintalo! Sì, fintalo di nuovo lì! Eccolo! Eccolo che va! Visto quello di cui ha dato provo, 3-0, ragazzi! 3-1, 3-0! Cosa? Sì, che stiamo incendi! Buono! 57, prima di servizio, 57, eh! 5 Ace! Non è vero, non è vero! Bene, allora, semifinale battuto, Kung-Out 3-1-3-0. Abbiamo accumulato ancora punti, e adesso, bene, a livello superiore, siamo a livello 5. Perfetto, abbiamo sbloccato uno slot tattico, un altro slot abilità. Abbiamo sbloccato un allenatore, Lidia Amodeus. Queste cose qui, sono cose che dovremmo capire dopo, intanto, adesso, noi, comunque, ci salutiamo qui, e, niente, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, Oscar St. Kraken, ricordatevi della campanellina, io vi ringrazio moltissimo per averci seguito, e per avermi seguito, e ci vediamo alla finale contro Mislava Ribar, il croato. Ciao a tutti, ragazzi!